Mirko Carloni, oltre 6.800 preferenze, si aspettava questo tipo di risultato? Beh no, ovviamente non me l'aspettavo, è stata una graditissima sorpresa. La cosa straordinaria che però si percepiva durante la campagna elettorale era l'entusiasmo che veniva dalla gente quando capitavano incontri pubblici, privati, c'era un entusiasmo, un fermento che in passato non c'era. Quindi credo che siamo riusciti a interpretare bene quelli che erano le esigenze e quelli che sono i bisogni della nostra comunità e adesso abbiamo davanti una sfida importante che è quella di mantenere quell'impegno, mantenere quella tenacia e quell'audacia che abbiamo promesso in campagna elettorale. Quali sono i punti di forza che l'ha portata così in alto? Beh sicuramente il fatto che la gente mi ha sostenuto avendo quei requisiti che probabilmente in questo momento erano quelli più richiesti, cioè quelli della competenza e anche dell'esperienza che probabilmente anche a differenza del passato oggi vengono particolarmente richiesti. Come è giusto che sia in qualunque organizzazione che la classe dirigente di quell'organizzazione così come per il governo locale abbia delle competenze e delle esperienze. Credo che sia il minimo sindacale da cui richiedere e nel mio caso probabilmente forse mi ha premiato questo e probabilmente questo è stato il punto di forza. Quali sfide le attendono? Beh le sfide sono tante e sentiamo già la preoccupazione di quello che c'è da fare perché non è sicuramente una passeggiata. La prima sfida, la più importante è probabilmente quella di dare servizi in modo omogeneo sul territorio, chiudere una fase storica dove si è in qualche modo generata, provocata una disuguaglianza sociale tra la costa e l'entroterra. Questa disuguaglianza è molto molto forte, l'abbiamo sentita in campagna elettorale. Ci sono molte persone che non credono al futuro, non hanno speranza per sé e per i loro figli quindi probabilmente dobbiamo dare coraggio e speranza a chi vuole continuare a credere in questa terra e vuole continuare ad investirci e a viverci.